A tu per tu, quest'oggi ospita Filippo De Gasperi, consigliere provinciale del Movimento 5 Stelle, grazie di essere con noi De Gasperi. Grazie a voi, buongiorno. Allora, abbiamo diversi argomenti, non possiamo trattarli tutti, è vero che l'agenda politica è sempre più lunga, sempre più numerosa di questioni da affrontare, visto anche il periodo, ma andiamo subito a affrontare una questione che le sta particolarmente a cuore, vale a dire il disegno di leggi approdato in commissione sui 6 milioni di euro che finiranno ai pensionati in forma di meno tasse. Allora, ce lo spieghi De Gasperi? La riduzione della pressione fiscale è uno dei principi che guidano l'azione del Movimento 5 Stelle. Abbiamo raggiunto un obiettivo che riteniamo importante, soprattutto visto che è stato raggiunto da una forza di minoranza, comunque con una rappresentanza piuttosto ridotta in Consiglio Provinciale. Vogliamo ricordare come è nato, è stato un colpo di mano. Sì, diciamo che dimostrando una certa leggerezza, la maggioranza ha votato un emendamento presentato da me che prevedeva l'eliminazione totale dell'addizionale regionale per i contribuenti trentini. che avrebbe significato uno sgravio di 90 milioni di euro. Evidentemente... Faceva saltare il bilancio. Beh, diciamo che avrebbe forse motivato la Giunta a trovare spazi di risparmio. Ovviamente i benefici sarebbero andati ai trentini. È chiaro che un'operazione di questo genere non può essere fatta sulla base di un errore. Bisogna condividerla dal punto di vista politico. E quindi da parte della maggioranza c'è stata la richiesta di trovare un accordo, anche perché la maggioranza avrebbe potuto bypassare questo emendamento, semplicemente presentando un disegno di legge successivo che lo annullava. Quindi da parte della maggioranza c'è stata la disponibilità alla discussione e all'interno della discussione anche con le altre minoranze, si è arrivati a proporre lo sgravio di 6 milioni di euro per i pensionati con un reddito che arriva a 15 mila euro lordi. Chiaramente si tratta di cifre non... Non iperboliche però... Non iperboliche, è un segnale soprattutto che se si volesse le imposte si potrebbero iniziare a ridurre. Quando alproderà in aula il disegno di legge? Nella prossima tornata di marzo sarà il primo disegno all'ordine del giorno. È passato in commissione ieri, è stato approvato chiaramente. Già quest'anno allora i pensionati trentini troveranno questo beneficio quantificato in quanto una quarantina d'euro? No, diciamo 150-200 euro all'anno ovviamente si parla. Sono sempre soldi che fanno comodo, fin a pochi. Che le pensioni minime vengono aumentate di 5 euro, diciamo che comunque è un intervento... Trovarsi quasi 200 euro da spendere insomma sono soldi che fanno comodo. Poi altra questione, la formazione professionale. Lei è contrario a queste novità, novità che fanno degli studenti, già dei lavoratori, lavoratori con stipendi ridotti, studenti che lavorano, imparano, che comunque non hanno uno stipendio pieno. Ma diciamo che più che essere completamente contrario sono critico. Si è parlato in maniera entusiastica di questa formazione duale, ci sono degli... Che prevede cosa? Lo spieghi velocemente. Prevede che invece che frequentare un istituto di formazione professionale, lo studente, lo studente a questo punto bisogna chiamarlo l'apprendista, l'apprendista lavori in azienda con una retribuzione ridotta rispetto alla retribuzione già ridotta degli apprendisti, di un ulteriore 20%. Quanto sarebbe a spanne? Ma io penso che non si andrebbe oltre gli 800 euro. Prevede che l'azienda sia sgravata dei contributi per questi lavoratori e prevede che la provincia contribuisca alla formazione dello studente con 7.000 euro che vengono versati all'azienda. Dall'altra parte appunto lo studente, l'apprendista non frequenta più la scuola se non per 360 ore annue rispetto a quelle che oggi sono 1066 ore. Allora è sicuramente un percorso di cui si può discutere. L'importante è che non si confondano le due possibilità. Uno è la formazione come è prevista oggi con le materie culturali e con la presenza di insegnanti e personale preparato che segue l'allievo all'interno di un istituto. L'altro è un percorso del tutto diverso ed è evidente che se a scuola le ore di formazione sono 1066 difficilmente si potranno raggiungere gli stessi risultati in particolare per quanto riguarda le materie culturali con 360 ore. Quindi la mia non è una contrarietà, è semplicemente... Va un po' smussato e limato un pochino. Sì, e soprattutto va chiarito che si tratta di due strade completamente diverse. Da una parte si forma il cittadino... Il posto sarebbe fisso? Il posto non è assolutamente fisso perché al termine del percorso l'azienda è liberissima di sostituire lo studente formato con un altro. Quindi non c'è nessuna garanzia da questo punto di vista. E quindi i motivi di... Potrebbero scattare degli imprenditori furbi, insomma. Beh, sicuramente siamo in Italia, per cui il modello viene importato dai paesi tedeschi. Ovviamente il contesto tedesco è del tutto diverso rispetto a quello italiano. E' un po' serio? Diciamo, da questo punto di vista, probabilmente sì. Abbiamo già avuto dei casi di sfruttamento per quanto riguarda la garanzia giovani, con interventi della magistratura e delle forze dell'ordine. Quindi sicuramente i motivi per essere cauti ci sono tutti. Andiamo a vedere cosa dicono i cittadini. Sentiamo. Che cosa ne pensa della preferenza di genere? Ma anche qui rentiamo sempre nello stesso discorso della tolleranza. Direi, però, se io volessi votare due donne, mi è possibile? Io preferibilmente faccio sempre così. E mi sembra che a questa legge non si possa, giusto? Ho sbaglio? Ho letto male? Ecco. Quindi? Quindi mi sembra un po' una cosa così, arrafazzonata. Una cosa arrafatta. Dice giustamente al cittadino, c'è questa proposta di legge, legge regionale, che è già stata bocciata dai comuni, in Alto Adige e in Trentino, sulla doppia preferenza, e vale a dire una preferenza a un uomo, una preferenza a una donna, o una preferenza a una donna, o una preferenza a un uomo. Allora, tanto per capirci, la doppia preferenza di genere, cosa ne pensa lei dei Gasperi? Ma il Movimento 5 Stelle pratica la parità di genere nei fatti, nel senso che, in particolare, il Parlamento, il Parlamento italiano, il Parlamento europeo, anche in Consiglio provinciale a Trento, le quote rosa si sono costituite, diciamo, in maniera naturale. Io sono convinto, e così il Movimento 5 Stelle, che quando non esistono filtri da parte dei partiti e gli elettori sono effettivamente liberi, le donne trovano spazio naturalmente, perché hanno tutte le competenze e le capacità per farlo. Non servono interventi di questo tipo, che sono sostanzialmente ideologici, non limitano la possibilità di scelta degli elettori, perché questa è la sostanza, e fondamentalmente non aiutano le donne, perché appunto le donne devono essere in grado, e lo sono, di emergere grazie alle loro capacità. Sinceramente mi sembra un intervento che va a svilire appunto la capacità della donna di dimostrare nei fatti le proprie competenze, le proprie abilità. Quindi siamo contrari a Roma, saremo contrari anche in Consiglio regionale, e riteniamo che un intervento di questo genere sia essenzialmente ideologico e non porti a nessun contributo pratico per migliorare la situazione. Allora noi... Mi permetto di dire l'ultima cosa, piuttosto si dovrebbe pensare come mai sono così poche le donne che partecipano. Ci dovrebbero essere più processi di avvicinamento. Dal mio punto di vista esistono problemi per quanto riguarda i servizi, alla maternità, per esempio, aiutiamo le famiglie, le donne, dal punto di vista del sostegno alla maternità, i ragazzi che vanno a scuola, e le donne saranno naturalmente più libere e più disponibili ad occuparsi anche di politica. Della cosa pubblica. Allora, la ringraziamo, Le Gasperi, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. E ci rivediamo con un altro ospite di A Tu per Tu. Grazie a tutti.